Operativa da poche ore a Carmignano di Brenta, una linea diretta con il sindaco e la sua aggiunta. Per contattarlo basterà mandare un messaggio a Whatsapp. E questa è la suoneria del messaggino che thrillerà sulla linea diretta aperta dal sindaco di Carmignano di Brenta con i suoi cittadini 3426635547. E questo è il numero a cui risponderanno il sindaco o il suo vice operativo tutti i giorni, 24 ore su 24. Metterà nelle condizioni il cittadino di attivarsi in maniera più rapida possibile nel segnalare stati di manutenzione delle strade, pubblica illuminazione spenta, qualsiasi cosa che riguarda appunto il comparto delle manutenzioni oppure qualche atto vandalico al parco pubblico, direttamente al sindaco, insomma si chiama linea diretta con il sindaco e provvederemo a risolvere chiaramente il problema. Operativa a tutti gli effetti, numero 3426635547, sarà comunicato in modo capillare in tutto il territorio. Dal lunedì prossimo ogni abitante riceverà questo foglietto illustrativo e il bigliettino da tenere sempre in tasca. Il sindaco infatti suggerisce di memorizzarlo, un numero non si sa mai. Attraverso Whatsapp oppure l'SMS, chi attraverso Whatsapp ha possibilità di avere uno smartphone, magari chi non ce l'ha può mandare un SMS, attraverso lo smartphone può mandare la foto, addirittura anche un piccolo video della situazione. Credo sia un modo in più per attivare quel meccanismo di partecipazione, noi tra l'altro abbiamo anche un assessorato alla partecipazione e quindi su questo siamo impegnati fin dall'inizio del mandato a coinvolgere la popolazione. Un italiano